allevatori in erba ciao a tutti oggi terzo appuntamento di questa mini serie che abbiamo battezzato nella quale insieme agli amici di chemifarma parliamo di salute animali oggi come promesso parliamo di elmentiasi perfetto perfetto l'ho imparata senza leggerlo che me lo sono messo è il mentiasi cioè di della verminosi con francesco vi spieghiamo la struttura del video e poi andremo a trattare questo argomento grazie grazie nicola come al solito per la partecipazione dell'invito come abbiamo fatto negli scorsi video direi di proseguire con la solita scaletta quindi andare a verificare esattamente come mai come è possibile che gli animali possano ammalarsi definiamolo così ma comunque infestarsi di questi parassiti in questo caso appunto ai tutti i vermi si conformano alle mentiasi come trovare dei segnali in cui ho degli animali ammalati di questa cosa quindi i sintomi andare a verificare che può essere un sintomo di questa specifica malattia e capire quindi di massimo interesse rimedi pratici per evitarla cioè per cercare di limitare le possibilità che questa si venga a manifestarsi con tutti gli strumenti che posso avere a disposizione infine dove questa sia conclamata invece ci sia un'infestazione che ha reso gli animali particolarmente vulnerabili ammalati a volte anche criticamente in maniera critica ecco allora posso andare e devo eventualmente intervenire proprio con delle cure e proprie cure che ovviamente lamberto ci illustrerà direi che come al solito come diremo anche alla fine cercheremo di essere il più esattivi possibile ma tutto quello che non sarà chiaro che non riusciremo a trattare diciamo già i commenti sotto va sotto quindi non preoccupatevi siamo a vostra disposizione per completare la vostra curiosità e quindi ecco i commenti oggi sono uno strumento a vostra disposizione si è dimenticavo che tra l'altro è una formula che ormai abbiamo utilizzato e che spero sia stata gradita e se questa è la prima volta che l'avete vista applicata recuperate anche se non avete ancora fatto i video precedenti che hanno parlato delle delle altre malattie abbiamo parlato di cocidiosi e di histomoniasi e di tricomoniasi nei due video precedenti poi magari i prossimi cicli appena avremo la possibilità siamo a disposizione consigliateci che di che cosa parlare le prossime volte chiaramente malattie batteriche il cosiddetto raffreddore malattie respiratorie ce n'è come noi come noi esseri umani anche gli nostri animali si possono ammalare tantissime ahimè batteri virus e quant'altro Lamberto io ti lascerei la parola se sei d'accordo per parlare in questo caso ancora una volta di salute animale si e perché però dobbiamo parlare un attimo di parasitismo quando parliamo di parasitismo questo qui gastrointestinale vuol dire che c'è un ospite che subisce il parassite che si porta via qualcosa dall'ospite e c'è un rapporto di simbiosi uno dà e l'altro prende a scapito dell'ospite e quindi una volta capito questo questo concetto ci sono sempre stati fanno parte del di questa questa grande famiglia degli elementi e lì abbiamo varie categorie che ne parliamo però questo concetto di parasitismo dovete capire cioè sono non sono delle infezioni sono delle infestazioni ritorno sempre più di moda per il discorso lombrichi coccinelle formiche scarafaggi che ci siamo dimenticati eccetera che vengono praticamente assumono queste queste uova di questi parassiti rimangono nel loro intestino la gallina il pollo nel razzolare il becchettare in giro si infesta e lì dopo comincia questa questa simbiosi che molte volte questa questa simbiosi può rimanere anche inosservata perché si viene limitata dal dal da un discorso da alcune razze più forti alcune razze di di abicoli meno forti eccetera però è sempre spogliativa cioè il parassita porta via porta via allora quello che produce che ha un po di galino ma dottore mangiano stanno bene eccetera eccetera hanno un po la cresta pallida in più c'è stato un caldo di deposizione c'è stato un caldo di posizione per forza perché tutte queste le vitamine le proteine le sostanze nutritive vengono vengono presi da questo parassite che aumenta quando diventa diventa adulto si stacca e finisce il suo ciclo fa le sue uova e secondo e quindi a scapito dell'ospite quindi scusami Lamberto proprio perché siamo in un ambito rurale e per quello che ho scelto questi perché vanno di moda se ne sono e diciamo che aumentando fortunatamente magari anche questa tipologia di allevatori allevamenti che crescono e nascono insomma anche in queste realtà rurali proprio lo stare a contatto con la natura con porta ahimè in questo caso ad un aumento di casistiche di possibilità non voglio fare del terrorismo non voglio fare niente però queste siccome noi viviamo a contatto con questi animali i bambini eccetera quindi queste sono malattie che si possono benissimo tra queste parassitose possono benissimo trasferire ai bambini che giocano per terra con le mani si mettono le mani in bocca eccetera eccetera quindi se noi capiamo che dobbiamo sverminare sempre il solito discorso di prima il cane il gatto dobbiamo pensare di sverminare anche questi perché i nostri bambini ci giocano se la mettono sulla spalla se la mettono le cose poi si mettono le mani in bocca anche loro arrassano con le galline per terra chi va a quattro a quattro zampi bambini e lì si possono e si chiamano zoonosi cioè malattie che dagli animali si possono trasferire alle persone quindi trattiamo nella giusta maniera diciamo Lamberto che noi non vogliamo far terrorismo vogliamo solo rendere consapevoli i nostri allevatori in erba che dietro a dei polli ornamentali ci possono essere delle ci sono delle delle patologie sono patologie no che che si possono sviluppare ed ecco conoscendole si possono tranquillamente evitare in maniera molto semplice importante è e questo stiamo cercando di farlo di creare in voi la consapevolezza che ci sono queste cose qua una volta che ne avete la consapevolezza e le sapete gestire non è che succedono disastri importante è conoscerle perché come dicevate voi prima sta nascendo siamo una il verde mondo e mondo gallo sono una community ormai con decine di migliaia di di allevatori che qualche anno fa non lo erano tanti veterinari ci dicono che hanno quasi giornalmente e galline nelle loro cliniche quindi ecco il nostro compito è quello di darvi la possibilità di non sottovalutare la cosa insomma ci sono delle cose da valutare ed eccoci qua a spiegarvele insomma grazie per questo intervento che perfettamente mirata io volevo dire queste cose qui cava subito ecco questo io qui ho tutto fare una questi paresiti intestinali che si chiama appunto questi questi elementi esistono di due tipi per fortuna la stragrande maggioranza sono vermi tondi e vermi piatti per fortuna che sta grande maggioranza sono i vermi tondi voi le conoscete come gli ascaridi le abbiamo anche lì specie specifici che gli ascaridi delle galline dei polli nome e cognome c'è ascaris sum del maiale ascari eccetera e poi abbiamo ogni specie ha il suo ascaride ed è questo vermino qui tondo affusolato come uno spaghetto come uno spaghetto che si può vedere anche un anche occhio nudo la scaride nel sia del pollo che nel maiale che negli altri degli altri animali l'adulto la forma adulta la forma invece di nuovo non si può vedere perché vedete anche voi che abbastanza un piccolina mentre gli ascaridi come ho detto l'adulto si può vedere le capillarie bisogna essere degli esperti perché sono molto come dei finissimi capelli corti corti eccetera questi qui sono le terachis galline praticamente è gli osciuri la vede anche nei bambini piccoli gli osciuri gli osciuriesi dei bambini sono delle piccole parassitosi che che saltano fuori anche a livello umano no e con quasi tutti delle forme enteriche gastroenteriche ce n'è uno solo che questo singomus trachea che per fortuna non viene nell'uomo ma vive nei fagiani in tachini nelle prime vie ere ed è un parassita anche questo che si può trovare soprattutto negli esotici ed è a sessi separati che di molto spesso questi qui sono tutti ermafroditi gli altri questo che fa per sessi separati con un particolare c'è proprio c'è proprio che il maschio in continua copula con la femmina direttamente qui nella parte vedete trachea l'unico che nella forma respiratoria una volta individuati questi questi vermi il loro ciclo sono in forma diretta e in diretta quasi tutti hanno bisogno di un ospite intermedio che come ho detto prima per far unire tutto il ciclo un ospite intermedio che può essere la formica che può essere il lombrico che può essere lo scarafaggio quindi scusami lamberto le galline mangiano questi animali qua e si portano e lui finisse con l'ospite intermedio finissi sul ciclo noi possiamo degli esseri possiamo essere degli ospiti indesiderati non siamo un ospite intermedio come la lomachina noi ce la prendiamo perché 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 prendiamo delle uova dal terreno già formulate già 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 preparate per essere infettanti noi siamo un ospite non gradito però ci siamo anche noi nella scala mentre invece quegli altri sono proprio più intermedi che se non c'è quello lui non finisse il suo ciclo lui non finisse il suo ciclo lui intendi il verme ha bisogno dell'ospite intermedio della sua forma di uovo larve eccetera bisogno di un ospite intermedio che è la lomachina eccetera eccetera voi vogliamo parlare lamberto dopo averle un po un attimo descritti soprattutto quali sintomi tu prima hai parlato hai accennato i sintomi nella subito lì subito lì subito lì subito lì subito lì calo di deposizione gli animali si spareggiano gli animali si di non sono più uniformi c'è ad esempio il dimagrimento c'è un dimagrimento perché c'è un aspetto spogliativo di questi vermi c'è un aspetto spogliativo di questi vermi quindi l'animale non assorbe più l'intestino non assorbe e diventa 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 come un tubo a e poi c'è anche una perforazione dell'intestino quindi può essere anche tracce di sangue no tracce di sangue non le vedi non le vedi no puoi vedere delle uova puoi vedere delle uova sporche puoi vedere delle uova più imbrattate puoi vedere delle cose del genere però i vermi sono più subito purtroppo quando facciamo diagnosi di verminosi molto spesso il veterinario trova questi ammassi nell'intestino nelle varie parti dell'intestino proprio come agglomerati di vermi adulti ecco quindi invece questo l'occhio che tu invece il laboratorio vede le uova le uova invece queste le possiamo vedere nelle feci nel lume intestinale no queste le puoi vedere nelle feci e nel lume intestinale però anche nelle feci esternamente esattamente questi soggetti qui tondi esattamente esattamente come anche quando io a me capita di clienti che mi dicono ho le mie galline che hanno defecato e nelle feci ho visto i vermi perfetto sono queste lui devi individuare subito tondi o piatti se sono tondi ce la carriamo bene se sono piatti è un po più rischiato per fare per essere chiari nelle piatti abbiamo queste famose temi no ma per capire quelle con le gambe tipo queste sono le temi e queste sono le temi ma sono schiacciate sono piatte la fotografia non rende molto ma sono tutti hanno delle proglottidi schiacciate schiacciate qui le proglie loro non hanno questa differenza non la conoscevo ecco quindi per far capire tu hai detto qua tipo uno spaghetto uno spaghetto così così qui invece una cosa piatta piatta e come io che non lo so non l'ho visto così facilissimo riesce a distinguere ad occhio sono bianche e tu vedi le proglottidi perché queste qui vedete questa segmentazione del corpo di questo brutto animale che è una tenia no è una tenia qui ci sono c'è lo scolice nella testa non ha un cervello questi animali qui sono hanno dei gangli nervosi sparsi e un tubo mente un tegumento di protezione durante tutto l'apparato digerente eccetera perché poi praticamente ha una gran bocca dei grandi rostri e roba da ancorarsi dentro l'intestino perché sono armati le chiamiamo armati nella testina che non è molto evidente ma si attaccano l'intestino e rimangono lì a bocca aperta e prendono le ingeste che lui trasforma e lo utilizzano per maturare qua lo spaghetto qua invece ha delle proglottiche segmentato vedete che segmentato questo man mano che tu vai così verso la fine sono maturi proglotti di maturi proglotti di maturi se si staccano questi che non la tendono si riproduce sempre l'ermafodita maschi e femmine se solo maschi e femmine l'abbiamo solamente nel sigmo strachea qui maschi e femmine sono tutti insieme tutti i due organi quindi si auto fecondo di senso e qui quando sono maturi si stacca e tu vedi a livello anche di occhio dei granuli di miglio schiacciati come si può dire bianchi che sono proprio un segno patronio monico nelle feci pezzettini non vedi l'adulto lo spaghetto pezzettini piccolissimi bianchi quella la proglottide ragazzi ci mettiamo in bocca uno di questo un bambino si mette questi qui sono lunghi 12 centimetri malattina se si è nata del bovino e qualche metro quindi cioè bisogna conoscerle no bisogna capirle conoscerle queste che sono piccoline 12 centimetri insomma si si ricordano però sono sempre temi brutte brutte da vedere molto armate e allora qui bisogna fare un discorso di questo genere aspettiamo aspettiamo di fare una coprocultura per vedere se ci sono questi parassiti eccetera io do un consiglio dalla mia vecchia esperienza sia da maiali che da polli che da altre specie noi abbiamo in testa che non vogliamo i vermi nei nostri allevamenti e per non voler rivedermi quei nostri allevamenti anche se sono potrei essere contestato cosa faccio mi sono messo in testa di fare due trattamenti all'anno su questi animali in primavera e in autunno nei confronti dei vermi perché non li vogliamo avere dei nostri dei nostri allevamenti dei nostri animali quindi un trattamento due trattamenti all'anno come facciamo poi nei cani negati come abbiamo concepito negli altri animali io lo farei anche ma bisogna avere una metodologia di lotte particolare cioè questa i cani negati ne diamo 12 ma qui abbiamo diversi pollai diversi settori eccetera capri abbiamo la verminosi in quel settore lì tratto solamente quel settore lì sbagliatissimo sbagliatissimo perché vuol dire che quello lì manterrà in allevamento la problematica di vermi qui ci vuole bisogna essere molto molto tedeschi il di dei cioè oggi facciamo i verbi tutti quelli che hanno le penne nel mio allevamento si beccano il vermifugo che poi fra l'altro è anche poco poco assorbito a livello sistemico e poco assorbito quindi non va in tutte le muscoli da tutte le parti eccetera eccetera però noi siamo sicuri siamo sicuri che lui a livello di l'uomo intestinale se ci sono questi qui attaccati se ci sono questi qui attaccati agisse in maniera stranissima su questi sistemi gangliari blocca questo sistema nervoso molto semplice questi qui hanno una specie di effetto anestetico ritraggono i loro i loro artigli attaccati nelle mucose rimettono dentro loro scivolano nel lume intestinale e vengono eliminati con le feci vivi quindi cadono nel tira capito cadono nel tira entro 24 48 ore mezzi addormentati perché loro non hanno più l'attacco scivolano sia questi che questi con principi attivi diversi ma questi signori perché hanno un sistema gangliare eccetera quindi quando fate i vermi e non dobbiamo conoscere che tipo di molecole usare perché ci sono dei vermifughi molto semplici molto antichi come il tetramisole che è stato e poi c'è l'evoluzione del levamisole monodosi cioè in un giorno solo non hai bisogno di avere tanti giorni nel a livello a livello ematico questo 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 vermito mi dai un picco questo qui arriva viene assorbito ma agisce solamente sugli adulti sulle larve e non adulto larvicida le uova non le fa queste uova qui vengono eliminate queste uova qui vengono eliminate allora cosa facciamo no scusami vengono eliminate le uova veneto agisci sull'adulti adulti e larve e quelle vengono eliminate e quelle vengono eliminate se rimangono le uova ma le uova ci sono nell'intestino perché lui le ha eliminate durante ok ha espulso le uova all'interno dell'intestino ecco questo all'interno dell'intestino e ci rimangono nell'intestino allora cosa facciamo dobbiamo sapere che il ciclo di 15 20 giorni quindi se noi ripetiamo il trattamento dopo 15 giorni noi questo uovo qui schiude e facciamo fuori anche la seconda ondata dico quindi è molto importante quella strategia e la metodologia di lotta capire che l'uovo schiude dopo 15 20 giorni capire capire che questi qui vivono quindi se io devo spostare le galline o le devo vendere la sveminazione la faccio prima non vanno a dare dei parassiti a un tuo cliente le faccio prima che deficano lì e poi dopo 48 ore le metto nel paddock nuovo pulito perché lì ci penserà poi dopo la lettiera a fermentare e bonificare anche queste uova cioè bisogna avere queste queste tecniche allora per quanto riguarda le a me piace anche lamberto anche dove si comprano gli animali è estremamente importante estremamente importanti perché voi voi capite insomma una parassitose non è un bel regalino che facciamo un vostro cliente non è un bel regalo quindi noi prima di e verde mondo lo sa io sono patito per queste cose qui nel senso che anche 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 io mi ritrovo mi richiamano molti allevatori perché io faccio anche un po di maiali a un certo momento mi chiamano quando sono lì in piena macellazione dottore venga a vedere aprono l'intestino ormai lo conoscono tutti è uno spettacolo bruttissimo insomma vedere il tuo maiali che di rimangere la tua salciccia sai che nelle carri non c'è niente però insomma non è molto bello vedere che dentro l'intestino ci sono quelli che albergano questi 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 parassiti qui che sono un potenziale rischio sanitario insomma ma ecco una domanda tu hai accennato giustamente a come eventualmente affrontare ciclicamente annualmente questo problema con degli interventi con metodo c'è una questione legata invece anche all'età nello sviluppo di quelli che sono animali non ancora adulti esempio come la coccidiosi c'è un periodo in cui animali che sono nati e cresciuti da me nell'allevamento possono avere un particolare domanda di domanda segretissima un animale giovane e cioè stiamo parlando di polli non ornamentali stiamo parlando di polli 55 60 giorni e poi diventano hanno messi in arrosto non fa in tempo questa roba chi si tratta parliamo di animali a lunga vita che rassano nei nostri nelle nostre lettine che rassano nei nostri padri castelli che rassano nel giro che ci sono due ci sono i lobbrichi dove ci sono le coccinelle dove ci sono questi qui che finiscono il loro il loro ciclo quindi è una questione che non riguarda però un ciclo animali ed animali giovani c'è tre animali adoro capita nel animali vecchi sono più soggetti a parassitosi mentinesi e lo scusami lamberto non non è che si attacca agli altri galline cioè non è una cosa che le uova trasmissibile si altamente diffusibile perché perché queste ore che una gallina l'attacca l'altra questa hanno vivono in un ambiente nel quale rassolando e poi soprattutto come ti ho detto non mettere la rete metallica nel posatoio loro vanno la in mezzo alle feci così a cercare a becchettare si beccano queste si beccano dell'altra roba eccetera eccetera i coccidi si beccano queste forme di resistenza classica di limoncino vedi è sempre un limoncino questa forma di resistenza credo che le abbiano trovate anche nelle tombe di faraoni queste qui rimangono lì e se mantiene la stessa umidità le cose ci rimangono lì per mille anni e quindi queste forme di resistenza bisogna saperle bisogna saperle bisogna saperle conoscere e si diffondono dall'altra non fare rassonare in mezzo alla verde non fare rassonare eccetera bonificare e trattare due volte l'anno due volte l'anno ecco quindi scusami francesco quindi la tu consigli della verminosi di trattarla in profilassi quindi una o due volte all'anno se cascasse il mondo gli faccio un trattamento il bravo veterinario non lo sono porta delle feci all'istituto del profilato e mi fai oltre alla conta del protozoi della coccidione mi guardi anche le parassitosi ma sai lì bisogna che ci sia proprio un'infestazione massiccia per vedere per vedere delle uova bisogna proprio che ci sia fanno degli arricchimenti fanno tutto quello che vuoi però io consiglio di farla a tappeto con metodo due volte all'anno a seconda dei dei ecco quindi secondo me questo se si parla come detto come il trattato di termine profilassi metafilassi quindi due sistemi comunque di prevenzione in caso in cui insomma anche non sia conclamata non la vediamo per eliminare quest'incubo questo problema dalla testa con questo tendenzialmente mi metto abbastanza al riparo però forse ci sono anche altre cose che noi abbiamo parlato dell'aspetto dell'intervento diretto però come tutte le altre cose quando si parla di parassiti non si previene da un discorso di pulizia tu hai parlato di lettiera ci sono anche qui non disinfettanti perché non parliamo di virus e batteri ma anche qui di biocidi attivi anche sulle uova di queste quindi quando c'è la possibilità di fare il vuoto sanitario anche sull'ambiente si può intervenire in maniera importante corregimi se sbaglio e noi abbiamo per chi anche ce l'ha chiesto ad esempio qualche prodotto naturale diciamo che riesce a aiutare a tenere controllato durante il normale ciclo durante l'anno ha tolti questi sì io scusa se ti risponderò questa domanda ma non ho fatto io molte volte mi sono parlato con con verde mondo anche con il concetto dei recinti il concetto dove lì dentro ci può soltare voi pensate solamente dove ci sono le galline che sono bellissime vedere sugli alberi vederle in giro ma dove sotto perché siamo in abruzzo perché siamo sopra nelle coline ci passa un bel gregge di pecore ma è bellissimo no? è una cosa bellissima da vedere le pecore le galline eccetera però appena le galline viene giù dall'albero e le pecore defecano lì è meraviglioso per le galline per stare lì e nelle pecore voi sapete anche voi che le parassitosi sono di casa quindi recintare che mi era sfuggito stamattina lì è fondamentale nell'avicolo noi siamo certi che lì ci razzano solamente le nostre galline è già è già molto che ci sono anche i migratori che ci possono portare purtroppo delle altre malattie virale molto importanti che le imprenze aviarie eccetera che finché ce le permettono di tenere fuori ma i migratori è già molto che quando ti passano oppure i gabbiani stessi possono venire su dei fecari lì quelli però non possiamo farci niente eccetera ma le pecore degli altri animali cani e gatti là in mezzo queste promiscuità non vanno bene per le parassitosi creano solamente dei guai creano solamente dei guai ma volevo dirvi per rispondere alla tua domanda dobbiamo fare un inciso di cosa trattare perché questi prodotti qui naturali creano un ambiente ostile dentro l'intestino a base di aglio e altre sostanze che fanno un effetto gregario all'aglio dove il parassite si trova male ci rimane non muore può anche siccome non sta bene soprattutto gli ascaridi possono ritrarre gli artigli e uscire per lunga durata noi questi prodotti naturali almeno 10 15 giorni nell'alimento non nell'acqua io lo metterei nell'alimento nell'alimento nel vostro miscuglio di granaglie li mettete qui sapete sappiamo tutti la corteccia del salice e l'alium sono proprio dei vermifico naturali per eccellenza ma se vedete che c'è il collega che ha aperto un pollo che era morto glielo portate in laboratorio glielo fate vedere lui trova che ci sono questi vermi purtroppo noi purtroppo dobbiamo passare a dei prodotti specifici che sono questo questo monodose che è il levavisole che però fa solo questa categoria i piatti dovevamo prendere un altro prodotto che a base di febendazole eccetera i mitazolici che fanno i verbi piatti mentre qui ci basta un giorno solo questi si devono rimanere almeno per 5-6 giorni nell'alimento o nell'acqua e fanno questi trattamenti qui anche nel cane fanno le stesse cose diciamo che però per i tuoi in questo caso qui mi è perso di capire un accento ecco è meno frequente quindi è più un intervento da effettuare nel caso in cui vedo questo tipo di di angeli del collega uno centro di questi uno di questi per fortuna ma tendenzialmente i due i due da quello che ho capito i due interventi annuali si bastano più quelli con che cura questi esattamente esattamente però lo sapete che questi prodotti qui no le uova le uova noi dopo negli ambienti dobbiamo sempre usare quei prodotti che agiscono sui tegumenti che sono dei dei acidi crisilici delle dei disinfettanti disinfettanti molto particolari molto molto mirati per fare queste per attaccare queste forme di resistenza io penso che se una volta voi lavorate così io ho voluto mettere queste verminosi perché lavorando all'aria aperta lavorando fuori uno deve sapere a che cosa va incontro bellissimo tutto ma cerchiamo di limitare di fare le cose giuste insomma ecco tutto allevare come diciamo in modo naturale si ha tantissimo ma gestito la maggior parte dei benefici ma va gestiti gli aspetti di biosicurezza di sanità abbiamo spiegato cerca di spiegare come si può intervenire anche in questo caso efficacemente bene bene ragazzi io direi che abbiamo fatto un bellissimo miniciclo e affrontando la verminosi e la cocidiosi e la tricomoniasi insomma abbiamo fatto penso tanto di quello che può capitare in allevamento se non sbaglio no? sì e niente quindi se avete curiosità su altri tipi di malattie che possono attaccare le galline ripetiamo nei commenti e noi prenderemo spunto per se lo vorrete fare una nuova serie nel quale parleremo per esempio delle vere malattie batteriche micoplasmosi salmonellosi clostridiosi poi ce n'è qualcuno che mi sono dimenticato bene quindi noi ci prepareremo speriamo di avervi fatto cosa gradita nel avervi spiegato questi aspetti della vita dei vostri animali perché abbiamo capito che sempre più persone stanno allevando per la salute animale quindi lasciandoli all'aperto lasciandoli vivere nell'ambiente familiare però ecco queste cose le dovete sapere per poter gestire al meglio gli animali e la vostra vita privata quindi noi vi ringraziamo i commenti ripeto sono sempre qua sotto e ci rivedremo sicuramente per un'altra serie un po' ha già spoilerato qualcosa Lamberto e quindi ci vediamo sicuramente presto un saluto chiamateci se avete bisogno